Recentemente ho ricevuto varie richieste di traduzione di titoli di studio conseguiti all'estero per ottenere riconoscimento da parte del MIUR, il Ministero dell'Università della Ricerca. Come si procede? Nel post trovate il link al PDF che contiene tutti i documenti previsti dal Ministero. Questi documenti vanno tutti tradotti e la traduzione deve essere per forza giurata perché in Italia non vale l'opzione della traduzione certificata. Quindi come si procede? Semplicemente mi inviate una scansione dei documenti, io provvedo un preventivo, dopodiché se accettate procedo con la traduzione. I documenti a volte sono molto corposi, specialmente per la descrizione delle materie studiate all'estero, per cui si può anche procedere a una traduzione che poi io revisionerò. E quindi il preventivo potrebbe scendere, dipende sempre poi dalla qualità del testo. Grazie. 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 Grazie.